e salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui in cucina con buffo oggi ragazzi parleremo di una ricetta molto importante in cui prevede la festa della mamma e ovvero parliamo dei cupcake alle pregole con rosellina preparare questa ricetta ci occorre 220 grammi di burro 110 grammi di zucchero 3 uova poi un bustino a pallivetto di dolce 110 grammi di farina 00 225 grammi di zucchero a velo 50 grammi di fragole una fiala di assenza di vaniglia 12 rose di zucchero e del sale quando basta la prima cosa da fare è preparare l'impasto ovvero mescolando le uova con lo zucchero poi aggiungere metà burro il lievito la farina la fiala e infine il sale una volta che il composto risulterà ben amalgamato prendete i vostri stampini metteteci ovvero il composto e cuocete a forno periscaldato per circa 15 20 minuti nel frattempo dedicatevi alle fragole ovvero lavarle tagliatele e passate nel frullatore fino a che non si ferma non si forma una crema e poi mescolate l'altro burro con le mani mescolate con le mani l'altro burro che vi è rimasto insieme allo zucchero a velo e mescolate fino a quando non risulterà un composto ben amalgamato dopodiché andate ad aggiungere le fragole e rimescolate ulteriormente una volta che avete fatto questa operazione andate a vedere se i vostri cupcake sono pronti e se potete toglierle dal dal forno e potete con l'aiuto di un sac a po fateli raffreddare e poi con l'aiuto di un sac a poch potete mettere la cremina di fragole e al centro posizionare le rose di zucchero e una volta che avete fatto questa operazione per i diciamo i cupcake che avete fatto sono pronti per essere serviti quindi ragazzi come vedete questa ricetta è molto facile veloce si prepara circa in 10 20 minuti e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti lasciate un bel like e continuatevi a iscrivere al mio canale ovvero ha cambiato nome quindi il canale non è più fuffi gamer ma in cucina con buffi e quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video quindi attivate sempre la campanellina per non perdere nessun video ciao